Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini, in FIPILI per lavori sul viadotto del Turbone, 3 km di coda tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino verso Livorno e 1 km di coda tra Montelupo e Ginestra Fiorentina verso Firenze, coda in uscita alla Strassigna e in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze, rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandici in direzione Firenze, in A1 verso Roma 1 km di coda per un veicolo fermo tra il bivio con la variante di Valico La Guercia e Badia e rallentamenti tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino, in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Oest verso Pisa. Infine per i treni a causa dell'investimento di una persona nella stazione di Scarlino i treni sulla linea Pisa Centrale-Roma Termini potranno subire ritardi fino a 120 minuti limitazioni o cancellazioni. Ed è tutto, buon viaggio!